Restano gravissime le condizioni del neonato di tre mesi di Salerno ricoverato al reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Bono di Napoli, dove è stato necessario anche intubarlo per aiutare la respirazione fortemente compromessa dall'infezione legata alla meningite batterica contratta dal piccolo che non era mai stato vaccinato. Resta da chiarire anche lo sconcertante esito delle analisi sulle urine effettuate nel primo ricovero a Ruggi, dove al bimbo è stata riscontrata la positività alla presenza di cocaina. Un accertamento che i sanitari del Ruggi hanno ritenuto doveroso quando hanno scoperto che il piccolo, giunto in ospedale con febbre alta ed un atteggiamento soporifero, era nato proprio a Ruggi tre mesi fa da una mamma tossicodipendente. Lo stesso test però effettuato questa mattina all'ospedale Santo Bono non ha dato più esito positivo. Per i medici il piccolo avrebbe smaltito la dose di droga probabilmente inalata attraverso l'aria, forse fumata, nella stessa stanza. La mamma non ha latte e quindi è stata esclusa la prima ipotesi che aveva fatto pensare che la cocaina fosse entrata in circolazione nel piccolo attraverso il latte materno. La mamma tossicodipendente è in cura per un percorso di recupero. La procura ha aperto un fascicolo di inchiesta per comprendere come sia stato possibile riscontrare tracce di droga nel corpo del piccolo neonato che nel frattempo è stato assegnato così come gli altri due fratelli avuti da un altro compagno dalla mamma ai servizi sociali del comune di Salerno.